Ciao bagai! In questi giorni mi trovo a pedalare qui in Romagna, terra di gente laboriosa, sì, ma capace anche di divertirsi, gente gioiosa, empatica, capace di viversi la vita con entusiasmo, ma così non pare essere per i ciclisti. Ho incontrato ieri un centinaio di pedalatori e pochissimi hanno risposto al mio saluto quando ci incontravamo. Su da noi, in Brianza, ci si saluta quando ci si incontra. Poi certo, c'è quello che ha un po' più di entusiasmo nel farlo e quello che invece... Però pensavo che qui, in terra di Romagna, fosse una cosa molto più folcloristica e invece no, non ho pensato che potevano essere persone maleducate, ho pensato semplicemente che qui non potesse essere un uso salutarsi quando ci si incontrano tra ciclisti. A casa vostra, vi salutate! Grazie! Grazie! Grazie!